Allora, ti racconto brevemente la mia storia, anzi la storia di famiglia, diciamo, perché questa passione per l'apicoltura è incominciata con mio nonno negli anni 60. Cosa è successo? In pratica mio nonno era in Toscana a lavorare e da lì ha conosciuto un apicoltore, almeno così quello che mi raccontava mio papà. Ha conosciuto un apicoltore, sono incominciate le prime domande, è cominciata la curiosità e da lì, prima di andare via, allora, da questo lavoro e questi cantieri che stava facendo, ha deciso di comprare il suo primo cassettino, che sarebbe questo qui. In questo tronco d'olivo mio nonno ha portato su, in Valtellina, il suo primo sciame. Da lì, appunto, è incominciata la passione, poi è incominciata, diciamo, le prime soddisfazioni di lavoro, perché mio nonno negli anni indietro ha pure vinto svariati premi dovuti ai risultati che ha ottenuto, al miele che aveva fatto. Questa passione è passata da mio nonno a mio papà, che ha rinnovato comunque sia tutto il discorso di curiosità, perché mio papà è stato molto innovativo nei suoi anni in cui aveva iniziato. Ha ereditato, diciamo, anche il discorso di lavorare sul farsi conoscere tramite concorsi, premi e quant'altro, perché comunque sì, anche lui ha ricevuto buonissimi risultati. E, essendo che io sono nato, e non dico che avevo già la maschera e la leva in mano, ma quasi, questa passione è passata a me. Io ho deciso di far passare questa apicoltura di famiglia da una passione a un vero e proprio lavoro, infatti siamo passati da una media annuale che aveva mio papà intorno alle 100 cassette, ora abbiamo una realtà di quasi il doppio, siamo arrivati a 230 alveari e contiamo comunque sia di rimanere così, di non espanderci troppo, perché ci teniamo comunque sia a tenere un prodotto tradizionale e di qualità. Siamo un'apicoltura che effettua un omadismo, quindi ci spostiamo in tutta la Valtellina, Val Chiavenna, stiamo anche qualcosa nell'alto lario, comunque sia, infatti dopo andremo a vedere. In queste zone riusciamo a produrre tutto quello che c'è, che ci offre il territorio circostante, ovvero miele di acacia, quando si riesce a raccogliere, il miele di castagno, miele di tiglio, miele millefiori estivo, millefiori primaverile, anche quello in base all'annata, millefiori di alta montagna, questo qui è stato raccolto ieri proprio, è ancora da smierare, sarà pronto fra una ventina di giorni, e Rododendro, quello viene fatto in alta montagna perché facciamo il nomadismo, andiamo fino a madesimo a produrre il nostro Rododendro noi. Altro da dire, mi verrebbe da dire soprattutto che ci teniamo all'innovazione, nel senso curare le nostre app nella maniera più efficiente possibile, come visto i svariati problemi che ci sono nel settore, però mantenendo via comunque sia la tradizione, quindi innovati ma sempre legati alla tradizione, ecco. Questo è un'impronta diciamo di quello che siamo noi, della nostra realtà di miele e curti.